Zuleila si butta dal balcone disperata. Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Le anticipazioni di Terra Amara di oggi riguardano un episodio che vede protagonista Zuleila che è pronta e decisa a lanciarsi dal balcone pur di ottenere qualcosa da Ilmaz. Ma prima di iniziare lascia un bel like al video e iscriviti al canale ricordando che per noi è molto importante e tu così potrai essere sempre aggiornato sulla tua serie preferita. Ma ora, senza perderci in altre chiacchiere, scopriamo insieme le anticipazioni della serie. Le incredibili anticipazioni esclusive di Terra Amara ci svelano che Zuleila si lancia dal vuoto. Il destino sconvolgente della giovane Sarta viene messo in pericolo dopo la rivelazione della verità nascosta su Adnan a Ilmaz. Scopriamola insieme quindi cosa accade quando Zuleila confessa tutta la verità a Ilmaz, che è lui il padre di Adnan. Zuleila riceve un messaggio da Ilmaz invitandola a un incontro segreto nei pressi del bosco, ma purtroppo dietro a quel messaggio si cela un inganno. In realtà è Mujigan, la dottoressa, avendo scoperto il piano di fuga organizzato da suo merito e la sua rivale, Zuleila, è decisa a vendicarsi a tutti i costi. Giunge sul luogo dell'incontro nel cuore della notte. Zuleila e Mujigan iniziano a discutere fino a giungere alle mani, ma Zuleila è in netto svantaggio. La dottoressa ha una pistola in mano e quindi è padrona di farle fare tutto quello che decide lei. Durante la collutazione però parte un colpo e Zuleila viene ferita al petto. La zia di Mujigan, che stava spiando da dietro un albero ciò che stava succedendo, accorre subito per allontanare la nipote da lì e riportarla a casa, facendo sì che si percepisse che ciò che è accaduto a Zuleila fosse per mano sua, cioè che fosse stato un suo tentativo di suicidio. Dopo il ritrovamento di Zuleila viene trasportata immediatamente in ospedale e dopo un'operazione molto delicata e complessa, molto lunga anche, la ragazza si risveglia e una volta ripresa conoscenza rivela a tutti l'atroce verità, ossia che Mujigan ha cercato di ucciderla. Tuttavia non viene creduta da nessuno, bensì credono che Zuleila abbia tentato un gesto estremo proprio come voleva fare credere Beice. Successivamente anche Mujigan, sotto consiglio della zia, mette in giro delle insinuazioni fingendo che Zuleila si è impazzita a causa dei farmaci e affermando di essere stata a casa quella notte con Beice e suo figlio Kerem, creandosi così un alibi. La giovane Zuleila però decide di reagire e non arrendersi, quindi determinata a vendicare il suo gesto subito da Mujigan chiede a Gulten, implorandola, di correre immediatamente da Ilmaz poiché ha un'informazione virale da dirgli. Se state apprezzando questa coinvolgente storia non dimenticate però di lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi avvincenti sviluppi. Ma ora continuiamo. Ilmaz si reca da Zuleila in ospedale dietro sua richiesta e una volta faccia a faccia con il suo amato trova tra un'esitazione e l'altra e con mille difficoltà il coraggio di rivelargli tutta la verità. Ma Ilmaz non accoglie la notizia così calorosamente. Ma Ilmaz che principalmente si era dimostrato amorevole e carino con lei e le stava tenendo la mano, improvvisamente di fronte a questa notizia lascia immediatamente quella mano, si allontana da lei e comincia a disperarsi. A disperarsi perché una notizia così lei non doveva tenergliela nascosta, non doveva tenersela dentro per così tanti anni. Adnan è suo figlio. Lui l'ha sempre visto, l'ha sempre guardato e non sapeva che era suo figlio. Ma come ha potuto Zuleila nascondegli una verità così grande, così importante? Non riesce proprio ad accettarlo e rifiuta anche l'idea che Zuleila, la sua Zuleila, abbia potuto mentirgli così profondamente. Zuleila cerca di fargli capire che non era stato un atto suo di scelta, ma che è stata obbligata dagli eventi e soprattutto obbligata perché era sotto recatto costante da parte della famiglia degli Yaman. Appena lei cercava e desiderava arrivare a dirgli la verità, loro le nascondevano il bambino e gli facevano capire che se avesse parlato e se avesse rivelato quella terribile verità a Dilmaz avrebbe perso completamente la possibilità di avere il suo bambino con lei. Quindi lei pur di non mettere in pericolo la vita di suo figlio ha sempre taciuto a Dilmaz questa terribile verità. Ma a questo punto si rende conto che deve digliela perché stanno succedendo degli eventi che non possono più essere gestiti solo da lei e Dilmaz, incredulo, incerto, sgomento, non riesce proprio ad accettare questa verità. Si allontana da lei, si mette le mani sul viso, è disperato. Non vorrebbe mai aver sentito queste parole, non vorrebbe mai aver sentito il fatto che Zuleila le ha mentito per così tanto tempo. Zuleila cerca in tutti i modi di fargli capire e insiste e insiste ma lui niente. Dice che non ne vuole più sapere di lei, che non la vuole più incontrare, che non vuole proprio più sapere nulla di lei e fa per andarsene. A questo punto Zuleila è così disperata e così sola al mondo che si rende conto che deve fare qualche cosa e purtroppo il suo qualche cosa sarà un gesto veramente terribile. Si precipita verso la finestra dicendogli che se lui non le crede per lei non c'è più speranza, che lui è l'unica persona che può credere a quello che lei le dice, che le sta dicendo finalmente la verità, scavalca al balcone e si lancia nel vuoto. Ma a questo punto che cosa succede? Perché sul balcone sono arrivati intanto sia Ilma per seguirla che anche Gulten che vedendo questo gesto disperato prima cercano di convincerla con il ragionamento a farle capire che non è possibile, che lei non deve fare questo gesto disperato. E poi, mentre lei si è lanciata nel vuoto dal balcone, ma cosa succederà dopo? Per saperlo continuate a seguirci per scoprire il seguito avvincente di questa travolgente storia. Le anticipazioni terminano qui. Per non perdere ulteriori colpi di scena e rivelazione, assicuratevi di iscrivervi al nostro canale e rimanere aggiornati su tutte le prossime puntate. Non vediamo l'ora di condividere con voi i momenti emozionanti e di sapere voi cosa ne pensate leggendolo nei vostri commenti. Grazie e a presto con il prossimo video.